Dopo la conferma della nomina da parte del Ministro Franceschini, il nuovo sovrintendente del Teatro di San Carlo, Stefan Lisner, si è presentato oggi a Palazzo San Giacomo per incontrare il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, con il quale si è intrattenuto per parlare di questa sua nuova esperienza alla guida del Massimo Napoletano. Entrambi si sono poi recati nel più antico teatro d'Europa, per una prima veloce visita e le prime fotografie, dal palco reale e dal palcoscenico, alla presenza del sovrintendente uscente Rosanna Purchia. Grazie. 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 Benvenuto a rai. Ciao, grazie.